Ciao a tutti ragazzi, sono Gisgionato81, benvenuti a questa nuova parte della guida di Pokemon Bianco Oggi cercheremo il Pokemon Leggendario Thundarus, penso Spero di trovarlo Allora, innanzitutto dobbiamo volare a Ponentopoli E... se non ricordo male... Eccoci qua, c'è il temporale Come vedete c'è il temporale E per trovarlo Basterà recarsi dalla vecchietta che avevamo incontrato l'altra volta Qui, poco più avanti Un attimo che disattivo il trucco dei Pokemon Selvatici Perché... ok Perché ora andremo appunto a catturare... Thundarus Allora, innanzitutto Come vedete ci apparirà la solita Eh... vecchiettina Della scorsa volta E ci inviterà ad entrare dentro casa sua Ci spiegherà varie cose Riguardo questo Pokemon E ci darà da mangiare Ci dice di andare al percorso 11, ci ha detto Ah, ecco Ah, va bene, si intanto comparirà a Thundarus Eccolo qua Come vedete Comparirà a Thundarus E si scatenerà il temporale Poi tornerà sereno Ok Allora Se non erro del percorso 11 Che si trova esattamente qua Allora, ora per trovarlo Sinceramente non so Cosa bisogna fare Ah, bisogna leggere qua Dice Poi trovo sole Percorso 11 Sole Ah, ok Perfetto Come sole Mi doveva dare in teoria Temporale Temporale, ecco Percorso 5 Per qualche parole In base dove c'è scritto Il percorso in cui compare Il Pokemon si dovrebbe trovare qua Quindi Secondo Quello che dicono Il percorso in cui compare Allora, vediamo, vediamo, vediamo Percorso 5 di qua No Mi sono un po' appinato Non mi ritrovo più Percorso 5, però non piove Quando pioverà, cioè ci sarà il temporale Vuol dire che lì ci sarà il Pokémon Percorso 5, temporale eccezionale mi dice Ma qui non piove per niente Temporale eccezionale, ancora, mi dice che è ancora qui Non c'è, non c'è Peccato, vabbè, andiamo qua Ancora Percorso 5, temporale eccezionale Niente da fare, nada Ah, percorso 16 si è spostato Perché si può anche spostare ragazzi Non dimenticatevelo Però non è che non so qual è il percorso 16 Percorso 10 Percorso 10 Ah no, invece si È proprio questo Peccato che non c'è qua Percorso 5, temporale Tacca No, niente da fare Ancora percorso 5 Niente Percorso 4 Ed ecco che non so dove è il percorso 4 E bisogna cercarlo un po', da quanto pare Pensavo fosse un pelo più semplice invece Vediamo se è andato ancora qua Al percorso 5 adesso Che è questo? Ma perché non me lo trovi? Un percorso 4 Penso che sia Il percorso che si trova qua sotto Speriamo No Direi che no Di no Percorso 4 Temporale Ma non c'è il temporale accidenti Ci vuole un po' di pazienza ragazzi Almeno penso che si trova in questo modo O meglio spero Che si trova in questo modo Perché se no Non siamo messi troppo bene No No Percorso 16 Non è anche qui Percorso Ecco adesso mi da dir tutto la sole Ecco no accidenti No C'era il temporale Cavolo Era lì Era esattamente qui Purtroppo avevo già schiacciato la freccetta Per tornare indietro Come avete visto C'era il temporale E quindi vuol dire che era sicuramente lì Appena andavate nell'erba Vi sarebbe capitato Vi sarebbe Diciamo uscito Purtroppo Purtroppo non me ne sono accorto Cioè sono proprio Sono tornato indietro addirittura Prima di leggere quello che c'era scritto Cioè di vedere cosa succedesse Perché mi ero sbagliato Perché dato che scriveva che c'era il sole Ho detto dai Intanto torni indietro così Invece devo rimanere proprio lì E ora mi ritoccherà Mi ritoccherà fare tutto Ora mi dice Percorso 4 Andiamo al percorso 4 Accidente Questa l'avevo già catturato Ah Non ve l'ho detto Mi sa che gli tiro la master ball Perché se no scappa Oh eccolo finalmente Come vedete Tuoni C'è di tutto E appena andremo In teoria Eccolo qua Nella sabbia Troveremo Thundarus Livello 40 Piove piove Borsa Pokeball E master ball Ed ecco Che il nostro Thundarus È catturato Ho catturato Con la master ball Perché se no scappa L'unico motivo Era questo Perfetto Adesso Sinceramente Non so Ah Allora Facciamo così Utilizziamo un volo Volo E andiamo Ad 420 No non mi ricordo Quale è la città No Sbagliato Questa Si Parliamo con la professoressa Radia Vediamo se da qualcosa Oh MTG44 Falso finale MTG7 Protezione Grandissimo Ehm MTG10 Introforza Che cara Amica Vabbè Vabbè Vogliamo Scirocopoli Passiamo Dalla dogana Qua Incontriamo Comor Non so cosa si dice Comunque se ne andrò Ok Quindi Voliamo Alla vittoria Ci ha detto di volare Alla vittoria Ah no Ho sbagliato Vabbè Vogliamo la lega Vediamo la lega Scendiamo verso il basso Vediamo e incontriamo Comor Accidenti Allora innanzitutto salviamo E comparirà E comparirà questo tipo Marzio Dopodiché partirà la sfida Con Comor E vi consiglio di avere i pokemon Curati al massimo E anche abbastanza allenati Perché avrai i pokemon Le ho da 65 Io purtroppo Non li ho Né allenati Né No Li ho curati al massimo Ma non ho una squadra Adatta per batter Comor Quindi Diciamo che al 69 Anzi al 98% Perderò il scontro Anzi un po' Come già Ho addirittura Audino Che è a livello 11 Quindi è come avere Un po' come Non utile in squadra E mi ucciderà Con molta facilità Axorus Ah Oltraggio Mamma Era ovvio Archeops Accidenti Morto Mi sta distruggendo Sì Purtroppo I miei pokemon Non sono per niente Allenati Quindi perderò Sicuramente Poi Un pokemon Abbastanza tostino Axorus Beh Mi erano Stanto Audino Quindi ho perso E che purtroppo Potevo Prendersi in squadra Dei pokemon Un po' più forti Come ad esempio Adesso quando mi viene in mente Lo dico Che ora è mecco Anzi adesso lo metto In squadra Vabbè comunque come avete visto Lì si può battere Combo non so sinceramente Se si potrà battere sempre In quella zona Cioè se ci sarà Se sarà sempre presente Ora andiamo a rivedere No ho sbagliato ancora Adesso provo a ribatterlo Adesso provo a ribatterlo Se non ce la faccio Lasciamo stare Cioè nel senso Mi devo allenare Meglio i pokemon Ok non dovrebbe subire Molto danno Da Da oltraggio Esatto Cosa brutta Che gli altri pokemon Sono più veloci Dei nostri Dei miei Perfetto Porca boia Mi hanno già ammazzato Dai attaccati da solo Bravo Proviamo il nostro amico Kyurem Un po' che ti potrà No ho sbagliato Vabbè Ormai l'ho fatto Accidenti Ho quasi ucciso Ecco adesso però Uso il traraggio Che è super efficace Ma ammazza con un colpo No Il mio Kyurem Se ne è andato in un colpo Il nemico è debole Il problema è che sono debole Anch'io adesso Però fortuna Ho attaccato prima io E sono riuscito a mettere Capo al mio avversario Adesso io direi Di cambiare pokemon Di mettere Ok Grazie per la visualizzazione Lui mette Sammuroth Io ho messo Semissaggi Ti danno semibomba Ah gli cavo Molto molto poco Molto poco E lui invece mi uccide Con un colpo solo Non va per niente bene Vabbè mettiamo Zekrom Autisabora Mamma mia Che disastro Sismitoad E direi che possiamo Anche utilizzare Un Revitalismax Non ce l'ho neanche No è possibile Ah si ne ho tre Ecco qua Secure mi direi Perché E' quello che forse Al momento E' il più forte Anche se Mi serviva In crotuono Di Zekrom Però a quanto pare Me lo uccide con un colpo E quindi Non va affatto bene Da Che sfiga Mi è rimasto Tipo uno di vita Morto Jigalith Non ricordo chi sia Ah Vediamo Dragopulsar Vediamo quanto Gli cava Gli cava abbastanza Vediamo lui quanto Mi cava Basta Mamma mia Quanto sono forti Sti pokemon Simi seer Non ho pokemon Di tipo Eccolo Super efficace No Che culo Bam Vediamo Vediamo di utilizzare Revitalismax Su Sismitoad Proviamo ma Essendo di livello Molto basso Non penso che ce la faccia Perché lui attaccherà per primo Se utilizza un attacco Super efficace Mi ammazzerà Sicuramente Ah no Vabbè Ho usato lanciafiamme Che mi ha cavato abbastanza Ma non tantissimo Invece io Glielo ho mandato Un fedant Adesso ho paura Che il mio Sismitoad Venga Sconfitto No bravo Però Non è riuscito a resistere Un terapidistato Utilizzare Revitalismax Su Zekrom Ho sprecato Tre Revitalismax Facciata Bravo Utilizzare Incrotuono Pamma K Un fedant Livello 56 Per Zekrom Ecomor È stato sconfitto Ragazzi Voglio vedere Se è ancora Ah Probabilmente Lo si può sfidare All'infinito Cioè forse Però non sono sicuro Non vorrei dire Una cavolata Comunque Vabbè Adesso andate Una lega Vabbè Mi vado a correre Il pokemon Ok Questa parte ragazzi È finita Ci vediamo Alla prossima parte Mi raccomando Commentate e iscrivetevi Spero che vi sia piaciuta Ciao a tutti Da Cesanate81 Ciao ciao